Io credo che non sia un problema di uomini, ognuno di noi deve interpretarlo come vuole il mister, poi è chiaro che le caratteristiche di ognuno di noi sono diverse, Brugma è un giocatore forse il più tecnico dei centrocampisti che abbiamo, Zupari c'è il più fisico, magari c'è chi ha più corsa, chi ha più l'inserimento, ognuno di noi deve mettere le proprie caratteristiche al servizio della squadra e poi il mister in base anche alla partita che si va a giocare farà le sue scelte. È chiaro che se ognuno di noi dà il massimo i risultati vengono anche senza problemi, anche c'è chiunque giochi. Spero di essere il complemento di Brugma, essere il sostituto non è mai partire come sentirsi un sostituto, penso che non sia il modo ideale per affrontare una settimana di lavoro, è chiaro che ogni giocatore per poter rendere al meglio deve sentirsi per tutta la settimana un titolare, lavorare per essere un titolare, poi il mister il sabato fa le sue scelte, però se un giocatore parte già sentendosi il sostituto credo che non possa lavorare al 100% durante la settimana. Se dovesse optare per un centrocampo a tre non ci sarebbero problemi, tu sei proprio una mezzala di ruolo. Sì, ma è chiaro che quello è il ruolo che ho ricoperto con maggior frequenza nell'arco della mia carriera, però credo che non sia un problema di posizione quanto appunto di interpretazione dei vari ruoli che si vanno a ricoprire. Penso che il mister adesso abbia fatto questa scelta qua, che è una scelta che ha pagato, perché indubbiamente si è vinta una partita fondamentale e quindi significa che era giusto fare quel tipo di scelta là e quindi che sia cinque che sia quattro io ho delle caratteristiche e nel momento in cui il mister ritiene che quelle caratteristiche vadano bene per la partita che si va a affrontare cercherò di fare il massimo. chiaramente è normale che devo anche capire dove migliorare per poter cercare di adeguarmi al meglio a tutte le situazioni in maniera da cercare di fare le più partite possibili. Di parlare di chi non c'è più penso non sia corretto e non è giusto, tant'è che appunto come hai detto te sono stato talmente poco che non posso giudicare varie differenze, sicuramente il mister è arrivato cercando di lavorare sulla psicologia della squadra, sullo stato d'animo che era comunque uno stato d'animo, un morale basso, perché indubbiamente dopo che si perde sei partite non si può essere contenti e credo che adesso questi due risultati ci siano serviti per un attimo toglierci di dosso qualche inibizione che potevamo avere sempre facendo attenzione che comunque non è che c'è da cancellare i sei risultati negativi di prima, quindi non è che vincendo una partita si può dire che la squadra è un'altra squadra, dobbiamo fare attenzione e stare sul pezzo perché adesso ne vengono altre di altrettanto difficili. Completamente senza rancori non si può dire perché comunque a Spezia ho indossato la fascia di Capitano e mi volevano bene tutti, la gente, la piazza, i tifosi mi volevano veramente bene e credo che sabato si vedrà, penso che mi accoglieranno bene, non c'è motivo per accogliermi in maniera ostile. Sono state fatte delle scelte a livello societario, a livello tecnico con l'avvento del nuovo allenatore, però non credo che sia giusto parlare di rancori perché sono contento di essere venuto qua, quindi se parlassi con rancore significherebbe che Pescara è una soluzione di ripiego, invece Pescara è stata una scelta che ho fatto volutamente, ho rinunciato ad alcune cose mie per venire qua piuttosto che andare da altre parti e quindi è stata una scelta veramente voluta, pensata e quindi senza nessun tipo di rimpianto. Sì, sì, ero entrato in quella partita lì, ho fatto gol subito, poi ho giocato anche a Bari, ho giocato a San Siro col Milano da capitano, però la sensazione comunque era quella che la squadra sarebbe stata rivoluzionata in toto e così è stato, e appunto quindi ho preferito optare per cercare di andare in un ambiente in cui comunque potevo essere considerato in maniera diversa. No, assolutamente applausi, sarei dispiaciuto se fossero fischi, devo essere sincero. Mi aspetto una bella accoglienza, non lo so, penso anche dalla dirigenza e tutto, ma penso che la gente mi abbia brezzato in un anno e mezzo per quello che ho dato allo Spezia e non credo ci siano motivi di fischiare. Non te lo so dire, probabilmente i risultati, probabilmente c'erano delle aspettative diverse in quel particolare momento della stagione e quindi si è optato per cambiare, era successo anche l'anno prima, purtroppo quando ci sono delle realtà con grandi disponibilità economiche si pensa che magari a tot soldi spesi corrispondano tot punti in classifica, ma purtroppo il calcio non è così e quindi dopo ci si ritrova magari a sbattere il muso e si cercano di fare mille ribaltoni che a volte vanno bene, a volte vanno male, però penso che adesso parlare di quello che è stato con lo Spezia, adesso che indosso la maglia del Pescara, non abbia neanche molto senso e non sia neanche correttissimo, quindi penso più che altro a quella che è la mia avventura da qui alla fine dell'anno e poi vediamo. Io penso che adesso la prospettiva immediata sia quella di dar continuità ai risultati positivi per uscire definitivamente dal periodo negativo. Poi quando ci saremo sentiti definitivamente fuori da quella situazione negativa, allora là possiamo magari parlare dei vari obiettivi. Adesso abbiamo una serie di partite comunque difficili e penso che affrontarne una alla volta sia la cosa migliore da fare senza dover pensare agli altri. Poi quando, ripeto, ci sentiremo forti, talmente forti da pensare di essere completamente fuori da tutte le situazioni, da tutti i problemi che abbiamo vissuto quest'ultimo mese, allora magari possiamo parlare di altro.